Lunedì 8 febbraio 2021 la filiale della BCC di Aquara con sede ad Agropoli inizierà il suo percorso operativo. Alle ore 9 ci sarà il taglio del nastro e la benedizione dei locali, dopodiché si inizierà la normale operatività. Sappiamo tutti che il momento è particolarmente difficile a causa dell'emergenza Covid, ma abbiamo voluto investire proprio adesso per trovarci poi in corsa quando ci sarà la ripresa della normale attività economica, fa sapere il direttore della BCC di Aquara Antonio Marino. Questa nuova filiale vuole essere un'increscente vicinanza ad una città che per storia, tradizioni, autorevolezza e tessuto economico produttivo rappresenta una colonna del territorio regionale.